André, che ci fai lì? Stasera le tue ricette della nonna non servono, abbiamo John a cena e lui mangia solo fast food. E chi se ne food? Bisogna pur sempre fargli una cena chic. E facciamogli un hamburger chic. Perché non gli facciamo una svizzera? Magari col tè de moi. André, ho preso una tartare, l'ho fatta diventare un hamburger, l'ho cotta. Ascolta, la posso impiattare io però stavolta. Assolutamente no. Allora, prendiamo un fungo che ho grigliato, poi metto un hamburger, un altro fungo, grigliamolo. Poi, che cavolo che mi hai tagliato tu? Si mette di fianco e poi il tocco chic lo do io però. Vai! Con una bella rosellina di tè de moi, il formaggio che non va tagliato ma va raschiato con la girona. Io ci metto un po' di verdi sulla nostra Svizzera. O meglio sul nostro Swissburger.